Il rotocalco radiofonico di AKR e Mondo Radio Web a cura di Piero Cirino Ebbene Nacri dopo tre anni, dopo la pausa forzata dovuta alla pandemia si appresta a celebrare un rito ormai entrato nella tradizione dell'estate a crese a crese come di tanti altri punti nella nostra provincia, nella nostra regione mi riferisco alla Notte Bianca che è in programma per oggi a partire dalle 21.30 è qui con noi per parlarne il direttore artistico Gennaro Spezzano intanto Gennaro benvenuto e grazie per essere qui Buongiorno a tutti, ci siamo, finalmente è arrivata sta data Sì, immagino che sia stata dura in termini organizzativi ma ne parleremo da qui a qualche istante intanto tradizionalmente la Notte Bianca d'Acri è gestita dal comune, direttamente dall'amministrazione comunale in questo caso invece c'è la figura del direttore artistico con il patrocinio dell'amministrazione comunale come è nata questa avventura Gennaro? Ho chiesto una sinergia, mi sono permesso di insomma di mettermi a disposizione per cercare di creare un evento diciamo unico che doveva essere magico dal punto di vista sonoro e anche per quanto riguarda le attività insomma dargli un aiuto in più perché insomma dopo degli anni di stop riuscire a fare un evento di un certo livello lo merita Agri e lo meritano tutti poi insomma è stato fatto in una data che studiandoselo un po' a tavolino vedendo quello che c'è nel circondario siamo diventati l'evento sia del circondario nostro l'attrazione è su Agri esatto allora ti volevo chiedere, immagino che dal punto di vista organizzativo le difficoltà siano innumerevoli quali sono quelle principali che hai incontrato finora? posso dire che ogni tanto ci è un po' servirebbe un po' di collaborazione in più con l'amministrazione comunale intendi oppure con il tessuto socio-economico aglese esatto perché un po', non chissà cosa perché come fanno tutti quanti io magari ho fatto altri anni fuori insomma c'è un po' di più questa collaborazione forse qua servirebbe un attimo perché Agri merita di fare delle serate, delle giornate sia culturali sia di musica sia di spettacolo perché sarebbe fiore all'occhiello qua abbiamo delle strutture importanti come insomma ne parleremo da qui a qualche istante ascolta si è detto che l'ingrediente principale è ovviamente rappresentato dalla musica si è detto anche che lo start è previsto per le 21.30 vogliamo dare un'occhiata al programma completo di tutta la manifestazione allora con noi questa notte ci sarà Fabio Curto i motori rivoluzionari i Cantanno Cunto ecco vogliamo dire scusami Gennaro allora intanto tra parentesi diciamo che la nostra emittente sarà in prima linea e che a partire dalle 18 ci sarà la diretta poi ovviamente andrà avanti per tutta la notte quello che ti volevo chiedere però è di dare oltre che i nomi anche il posto e l'ora in cui si esibiranno questi artisti ok 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 va bene perfetto quindi Fabio Curto è in piazza Sprovieri alle ore e a mezzanotte è il nostro artista di punta perché insomma è di Agri e soprattutto ha dato tanto poi abbiamo i motori rivoluzionari a l'1.45 sono al via Antonio Gramsci Cantano Gunti li abbiamo qua in piazza Matteotti alle ore 1 e poi abbiamo Giacomo M. Band in piazza Marconi gli occasionali in via Padula Alve Roccaroni in corso Sandro Pertini insomma abbiamo cercato Hello Music anche in piazza Marconi alle ore 21 Fantasie Popolari in piazza Matteotti alle 20.30 il Team Sorville alle 21.30 piazza Sprovieri poi abbiamo un face painting qua in corso Sandro Pertini fatto da Gold Beauty e Dirty Dancing in piazza Sprovieri alle 23.30 insomma il panorama è stato preso con tutti dei gruppi locali e non anche chi si occupa di ballo che fa performance oltre che alla solita disco all'aperto e alle band abbiamo cercato di racchiudere tutto quello che è Agri e tutto quello che ha in sinergia nelle vie cioè non concentrando tutto in un unico punto cercando di fare in onari diversi per tutta la via principale Allora se ho ben capito le esibizioni musicali avverranno tra piazza Matteotti piazza Sprovieri piazza Marconi in pieno centro storico poi su Corso Gramsci che è quello che tanto per capirci è nella Ghiungi e poi ovviamente ci saranno anche delle manifestazioni collaterali che vadano oltre la musica immagino certo certo abbiamo anche diciamo le attività sportive anche dedicate però ai più piccoli Urban Freeride che si occupa insomma di mountain bike che stanno già facendo delle riprese adesso erano su Padia e dopo arriveranno fino al Villa Gazebo diciamo che insomma tutto il perimetro del centro cittadino dalla parte più antica fino a quella più moderna è interessato da eventi che partiranno dalle 21 a 30 che andranno avanti fino a domani mattina per quanto riguarda invece le attività commerciali rimarranno aperte tutta la notte immagino con degli sconti particolari allora mi ha fatto piacere appunto riguardo a questo vedere che tante attività hanno messo una scontistica l'hanno usato come evento l'hanno usato come spinta per il nostro paese quindi insomma chi ha voluto interagire con questa notte bianca si è messo in gioco e ha dato del proprio meglio quindi oltre che passare una notte ad apprezzare diciamo il talento artistico di tanti gruppi di tanti solisti c'è anche la possibilità di fare l'affare nel senso che si entra in negozio per acquistare a prezzi che oggi o nella giornata di domani non sarebbero possibili per cui insomma approfittare di questa occasione per tutta la notte per poter fare delle spese ascolta si stavo per dire no stavo per dire che insomma è dedicata anche a loro alle attività a chi ha i locali perché è stata fatta in un giorno in modo da creare l'evento e avere gente anche oltre di Acre anche nel vicinato limitrofe ecco allora ovviamente di questi spunti si parlerà verranno ulteriormente approfonditi nel corso della nostra diretta canostop che come detto partirà dalle 18 e che accompagnerà tutti gli eventi che sono racchiusi all'interno del programma della Notte Bianca qui su Radio AKR e quindi di Notte Bianca si continuerà a parlare anche nella giornata di oggi ti volevo chiedere tu oltre che aver messo le mani in pasta definiamola così in questa nuova avventura hai anche ne hai inaugurata un'altra da qualche mese mi riferisco alla gestione dello storico Palazzo Sprovieri di proprietà del comune di Acre una gestione che è all'inizio ecco ti volevo chiedere qualcosa su come sta andando se le aspettative che avevi si stanno realizzando e quali sono state le difficoltà maggiori che hai incontrato allora sicuramente ancora non siamo al 100% spero a breve di essere insomma entro fine dell'anno operativo al 100% con gli ultimi diciamo lavorette di ritocco di ripristino che ci sono da fare poi per quanto riguarda la piccola gente con il circondario anche con le persone di Acre giustamente è una struttura nuova però vedo che c'è molto interesse sia dal punto di vista associazionistico che anche dal privato io mi sono messo in gioco perché ho sempre lavorato in questi ambienti adesso mi sono messo in gioco lavorandoci per me su Acre che è il mio territorio e siccome io ci tengo sto dando il massimo sto dando tutto l'impegno possibile vogliamo dire a chi non sa di questa struttura che cosa avviene all'interno di questo storico palazzo chi si rivolge a te per fare cosa allora palazzo Sprovieri intanto ho messo diciamo nei due loghi terrazza Sprovieri e palazzo Sprovieri è una struttura dedicata agli eventi privati e pubblici quindi dal compleanno al party alla laurea a un battesimo un matrimonio oppure al discorso anche diciamo dal punto di vista delle aziende come dice aziendali meeting riusciamo a fare queste due cose quindi ricevimenti in generale anche ricevimenti certo sempre con un numero non eccessivo ma un numero c'è la possibilità di pernottamento oppure no? abbiamo anche il pernottamento certo ci sono sette camere e quindi c'è la possibilità di pernottare bene noi intanto ti ringraziamo Gennaro per essere stato qui con noi la chiacchierata con te è iniziata stamattina ma proseguirà sicuramente nel corso del pomeriggio intanto grazie io ci posso dire un'ultima cosa prego intanto grazie perché anche questa intervista anche questa in radio oltre all'emozione perché magari ci ho sempre lavorato però essere con un microfono davanti avere le cuffie e parlare di quello che si è riuscito a fare magari nemmeno in tantissimo tempo in un mese però è una bella cosa e soprattutto ringrazio ringrazio te ringrazio Radio AKR perché negli eventi che piano piano ho sempre fatto ci siete sempre stati e continueremo ad esserci Gennaro a me fa piacere come devo dire anche un appoggio anche mentale che mi ha dato l'assessore Majorano e anche la Giunta perché insomma si sono fidati e mi hanno dato carta bianca per riuscire a fare una cosa bella quindi io cerco di dire anche a tutte le attività a tutte le persone che ci sono non diciamo sempre sono bravi gli altri sono lì hanno fatto questo nel paese vicino hanno fatto quello cerchiamo di guardarci sul nostro e spingere per diventare noi l'evento dove noi siamo protagonisti tutta la città di Acre questo è il bello sì con questo messaggio di positività chiudiamo la nostra prima chiacchierata ripeto avremo modo di ascoltare anche la tua voce e ulteriori spunti di riflessione nel corso della giornata ripeto Radio KPR seguirà a partire dalle 18 in diretta la notte bianca prevista per oggi alle 21.30 a partire